Ho sempre lavorato nella mia vita e so che i lavoratori sono i cornuti della storia. Lei sta attirando l'attenzione. O accetta di collaborare o andrà in prigione. Che ne direbbe dell'esilio dall'Unione Sovietica? Innanzitutto deve diventare famoso in Occidente. Lo diventerò. Si serve uno pseudonimo. Pensavo a Limonov. Signor Limonov. Che cazzo vuoi? Devo parlare con Yelena. Noi ci amiamo. Yelena! In Russia, diciamo, se vieni al ballo, devi essere pronto a ballare. Stoppo di rossi, i neri, i gay. I portori cani o dalla parte di chi non ha niente da perdere. Tu sei in atto per diventare un eroe, Dichka. Chi è il migliore? Sono io il migliore! La storia tornerà! E vi prenderà tutti a calci nel culo! Ma fa' culo! Fa' culo la guerra! Sono in corso di grandi cambiamenti. È tempo di fare sul serio. O siete con noi o siete contro di noi. Questa rivoluzione è musica per le mie orecchie. Se i tuoi eroi sono Jim Morrison, Lenin, Mishima, Bader, sei già membro del nostro partito. Mi definiscono estremista, fascista, ma voi sapete che non è vero. Mi timot Obama E MMi Mi timot ben